Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar da MyPod, la business travel. Per l'occasione siamo in compagnia oggi di Davide Galicchia, Country Sales Manager Italia. Buongiorno Davide, a lei la parola. Sì, buongiorno e buongiorno a tutti quanti i coraggiosi che hanno voluto iscriversi a questo webinar. Oggi siamo qui per darvi un po' di novità, sia per quanto riguarda la compagnia, soprattutto per questo programma TAP Corporate, che è una novità assoluta per l'Italia, per la TAP in Italia, che è un programma riservato alle piccole e medie imprese per poter guadagnare dei punti da poter poi utilizzare ovviamente nel corso della loro attività. Comunque andiamo di step in step, quindi cominciamo. Io sono Davide Galicchia, sono il Country Sales Manager per l'Italia e passiamo subito appunto a questo TAP Corporate, quindi praticamente è questo sistema. Noi come Star Alliance, molti di voi probabilmente lo sanno già, eravamo nel Partner Plus Benefit, lo siamo stati fino al 30 di aprile, poi pur rimanendo sempre in Star Alliance ovviamente abbiamo preferito indirizzare su queste piccole e medie imprese direttamente sul nostro TAP Corporate, che è già attivo da due anni in Portogallo e in altri paesi europei e che la cui espansione prevede praticamente la copertura totale dell'Europa online TAP entro la fine di quest'anno, quindi la vostra piccola azienda può far fruttare i propri viaggi d'affari con il nostro sistema, si risparmia ovviamente ogni volta che si vuole a contare per Portugal, è facilmente utilizzabile e l'azienda ovviamente compra i biglietti dove vuole, quindi nella propria agenzia di fiducia, nelle agenzie OTA, nel nostro sito, dipende da… Sì, sì, quanto? Può allontanare un pochino il microfono perché fa rumore. Ok, così va meglio? Ok, sì, sì. Quindi dicevo, è un programma che permette tante agevolazioni, ma poi entreremo un po' nel dettaglio. Volevamo darvi una piccola refresh di quello che è la compagnia, quindi noi siamo una compagnia di bandiera portoghese fondata nel 1945 e siamo Star Alliance dal 2005. Il nostro hub ovviamente è Lisbona, la principale, e noi ci chiamano la porta di ingresso dell'Europa per chi viene dalle Americhe e la porta di ingresso delle Americhe per chi viene come noi dall'Europa. Il nostro primo volo è stato fatto nel settembre del 1946, in Italia siamo presenti dal 1978 con Milano e oggi noi siamo leggermente ingranditi, arrivando a raggiungere 88 destinazioni su 38 paesi tra Europa, Africa e America, come leggete con una media di circa 2.500 voli a settimana. Nel 1976, ho sbagliato, ragazzi scusate, primo errore mio. 2 aprile del 1976, primo volo su Lisbona e Milano. Quindi il nostro hub è Lisbona, dicevamo, e noi abbiamo per l'estate 2018 praticamente 6 voli a Milano, 4 al giorno su Lisbona e 2 al giorno su Porto, che è una novità che abbiamo rimesso in operatività dal fine marzo di quest'anno. Abbiamo 2 voli al giorno per Venezia, abbiamo 7 voli a settimana nel caso del Bologna, e ben 5 voli al giorno per Lisbona da Roma, tutti quanti appunto indirezzati su Lisbona o Porto, come abbiamo detto, da Milano. La novità estate 2018 riguarda Firenze, dove TAP dal prossimo 10 giugno inizierà a operare con un Embraer 190 per 10 frequenze settimanali. noi avremo un doppio orario che come potete vedere sono un volo in uscita da Firenze, come potete vedere l pump il risultato 로 come potete vedere Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Il avião ha 8 saídas di emergencia, tutte devidamente assinali, 4 porti a cada lato. Per abri le porti, basta portare la banca per la cima. Tutti le saídas hanno magas di evacuazione che, in caso di necessità, possono essere usate come mello di flutuazione. Per abri le porti, basta portare la banca per 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 la banca. Incaiace la patina di metal alla fine per la banca 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 Ajusta il lazzo per la volta della cabeça e respira tranquillamente. Antes di aiutare le altre, coloque la sua mascarina. Nel caso di daino, anche ci sono mascarina di oxigeno. Di basso di assento, o nel compartimento lateral delle scadelli, ci sono colete di salvazione. In caso di necessità, ritiro da embalagem. Passa la abertura per la cabeça e ajuste la volta della cintura. Per escegliere il colete, puce il cordone con la pega vermelha o sopra pelo tubo lateral. Poi si insuflato, anche può essere usato come boia. Il colete solo deve essere insuflato dopo di abbandonare il avio. Per consiclo apreciare in grande forma tanta bellezza natural, nei aviões da TAP non è permetito fumare, non messe cigarros elettrônicos. Felizmente, neste avio, os equipamenti elettrônicos possono essere usati, desde che sia in modo di voo o equivalente, e a funzione bluetooth sia disattivata. Caso si encontre danificati, apresenta una temperatura anormal, produza un fumo che non se ricorda la sua localizzazione oltre a un caído per l'interno della struttura della sua cadera, dovete informare immediatamente la tripulazione. E, per ultimo, coloque le costi della cadera in posizione verticale, recolhe la mesa e aperte il cinto. Per più informazioni, consulte il filetto di sicurezza che si trova nella bolsa delle cadere. ma andrebbe a risparmiare ben 40 euro. A Tripula-Soudest-Noss-Portugal, deseja l'accomo a po' a viagere. Quindi, è vero, è un pochettino più macchinoso, magari, come diciamo prima, con tutte le cose che voi ci avete da fare, perdere tempo su quello che vi dice la TAP, e mi rendo conto che può non essere la cosa migliore, però devo dire che il mercato italiano, dopo un iniziale spaventano nella propria giusta, che chiede se avete delle tariffe umanitarie, come BA o IT per organizzazioni on-us. Devo dire che adesso si è assestato in una maniera molto interessante, tra l'altro, se vi interessa sapere, le percentuali nelle nostre statistiche di realità del 2018 sul lungo raggio, soltanto il 23% dei biglietti emessi da voi, agente di viaggio, sono stati emessi in brand. A questo punto la ringrazio per essere stato con noi oggi. Circa invece il 38-40% sono stati emessi in basic, che è il livello basico che noi utilizziamo, o per le parti tour operator, o per chi viaggia con un bagaglio, considerando sempre che c'è quel famoso trolley, che vi dicevo che può essere portato a bordo, senza costi aggiuntivi. Prima di passare ai tip and tricks e al TAP corporate, volevo appunto ricordarvi il discorso del pricing one way, noi praticamente sempre settembre 2016 col Portogallo, e poi settembre 2017 con il lungo raggio, abbiamo trasformato il pricing su base one way, basata al 50%, quindi vuol dire che se una one way costa 100, la round trip costa 200 euro, quindi esattamente il doppio. Ma la cosa interessante è che questo vi permette di non avere più né minimi né massimi, quindi avere una completa e totale libertà di poter fare come pare al vostro passeggero, perché non ha più l'obbligo di fare il Sunday rule o il minimo delle sei notti, non ci sono più i massimi di valida, tre mesi, sei mesi, dodici mesi, qui lavorando su base one way, pagano sempre per quello che è e le date in cui utilizzano, quindi se uno vuole comprare un biglietto partenza oggi, che è il 16 maggio, e tornare il 15 maggio 2019, oggi può farlo a una tariffa discount su Lisbona a 74 euro tutto incluso, andate e ritorno e comprare da un anno, quindi è un modo diverso di poter gestire il proprio passeggero. Tra l'altro abbiamo visto che, soprattutto per certe destinazioni, come potrebbe essere per esempio in Nord America, voi agenti di viaggio vendete quasi al 50% con origine Italia, al 50% con origine Stati Uniti, perché, perché, essendoci più al punto minimo e massimo, non c'è neanche la tariffa weekend, non c'è neanche la tariffa midweek, quindi, lavorando soprattutto su quello che è il...